Questa mattina ho anche pianto perché purtroppo un po' il nervoso, un po' il fatto di trovarsi davanti a un orso di 6 metri che sta per mangiarti e quindi se è inermo non puoi più far niente e vedere la spiaggia praticamente ridotta ai minimi termini perché il mare poi, vi ho mandato anche dei video, è arrivato proprio all'interno, cioè è passato da sopra le piscine, il campo da calcetto ormai è mangiato e gli impianti sono tutti saltati, ovviamente i danni sono incalcolabili, adesso faremo le nostre verifiche e praticamente la spiaggia è stata letteralmente distrutta dalla mareggiata solo e esclusivamente per la mancanza di questo pezzo di scogliera. Capisco che in altre zone, non solo nelle nostre, il mare abbia colpito forte e anche là dove ci sono le scogliere, ma non è assolutamente una scusante nel senso che qua nella nostra zona in Sassonia le scogliere hanno tenuto benissimo e le spiagge sono tutte salve e anzi addirittura hanno accumulato ghiaia, il mare e la mareggiata. Ovviamente se si crea un imbuto come da noi e si aspetta al posto di 13-16 mesi il progetto che doveva essere finito 5-6 anni e ancora oggi si tendono, l'amministrazione tende a andare sempre più avanti la gara a gennaio, la gara a febbraio, la gara a marzo e noi le condizioni sono queste, quindi il disastro era annunciato. Adesso abbiamo avuto questa mattina, io ho sentito per radio che il sindaco diceva che la gara è entro marzo, noi invece sapevamo che la gara era entro adesso, entro febbraio anche perché a marzo se non iniziano già i lavori quindi bisogna mettersi a lavoro, cioè il mio è un appello veramente, cioè a questo punto è un appello proprio di mettersi a lavoro cioè le tempistiche ci sono nelle gare, ci sono negli appalti, c'è in tutto, ma sono loro che devono anticipare queste tempistiche per cui ovviamente avremo degli incontri, adesso andremo a parlare, però intanto il primo dado di danni è stato fatto per cui non posso dire di più, so solo che oltre che la nostra concessione il mare ha abbattuto tutta la diga foraria di protezione perché è scivolata giù, non ci sono scusanti, non si può appoggiare uno scoglio sopra l'altro i prossimi giorni, no, lì ormai solo la scogliera può salvare la passaggiata dell'Isipo, i nuovi immobili dove stanno lavorando e ovviamente la nostra concessione io ho chiesto personalmente un incontro proprio questa mattina perché veramente mi sono sentito proprio andar giù il prossimo passo è un incontro con loro che io ho chiesto se possiamo mercoledì mattina perché voglio muovermi subito voglio cercare di capire anche il punto di lavoro veramente in cui si andrà in gara perché io ancora non ho ben capito quale sarà, io voglio sapere la data precisa, hai capito? Perché questo è molto importante e il mio appello è veramente quello di lavorare giorno e notte per cercare di sistemare questa situazione che è diventata quasi ridicola perché lasciatemelo dire, non si può più aspettare insomma Faccio un appello anche a questa frase a tutti coloro che inizialmente avevano detto, tecnici eccetera che addirittura la scogliera qui non sarebbe servita cioè noi abbiamo fatto una progettazione lasciando l'ultimo pezzo di Sassogna dicendo che qui addirittura noi saremmo stati salvati dalla diga foraria che è in copertura della passeggiata di Sippo quindi vi dico solo questo